La situazione del lungo lago oggi, come vedete è stata rimossa parte della cancellata, quindi il lago torna visibile sicuramente molto meglio di prima, gli operai stanno procedendo a collocare, a montare gli antichi parapetti, alcuni sono poggiati, parte della protezione è già stata montata e sicuramente anche per i turisti che in questi giorni estivi invadono la città e sicuramente è tutta un'altra cosa poter ammirare il lago senza la fastidiosa barriera della cancellata.